29esima giornata di campionato, sta per iniziare Roma, Sassuolo. Uno contro uno con Pedersen, il cross dall'altra parte è Lukaku, di testa fuori. L'azione O'Biang, qua si suona di rotolo O'Biang, il tiro in curva sud di Pedro O'Biang. Spinazzola si accentra, cross secondo palo, consigli, la perde, la riconquista. Palla dentro, sfila il pallone, Aguara lo mette giù, ancora Aguara, lato corto c'è Cristante, Serveto, il tiro cross viene deviato. Sempre Pellegrini, cross in mezzo, Lukaku, palla a sinistra per Pellegrini, che punta Pedersen, va dentro Aguara, si accentra Lorenzo, zona, tiro, Pellegrini, il tiro a giro! Bellissimo! Sì! Sì! Magnifico del capitano della Roma, un gol magnifico di Lorenzo Pellegrini. Eccolo il cross in mezzo, Llorente la schiaccia. Sponda per Pellegrini, che se ne va a O'Biang, che commette fallo, dice no Manganiello. Allora Racic, per Pinamonti, Racic il tiro, svilà! Miele! Baldanzi, si appoggia a Cristante, davanti il pallone per Lukaku che può andare, Lukaku al limite, Lukaku, 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 Lukaku! Fuori! Deviato, no! Cristante, cross basso in mezzo, Ferrari la tiene lì, Celic in area indietro per Baldanzi, sul sinistro, sterza ancora il destro, il tiro! Consigli! Palla in verticale, verso Bayramil, cross in mezzo, sfida il pallone, palo e poi fuori! Mamma mia! Che ho visto! Mamma mia! Celic serve Baldanzi, lato corto, arriva anche Pellegrini, Baldanzi entra in area, Baldanzi, il tiro! Consigli! Cristante, frischia Manganiello, vince la Roma, Roma 1, Sassuolo 0. Mundi, il traлем. Grazie a tutti! La Roma è Critical Sini! Ricordata! Ricordata!